Era il segno di questa continuità, devo dire che avrei potuto ricoprire anche un altro incarico, chiaramente quello da Presidente del Consiglio regionale mi riempie di orgoglio, cercheremo di fare meglio di quello che abbiamo fatto nei cinque anni precedenti e di allargare la partecipazione a tutti i componenti dell'Aula, anche a quelli che sono di opposizione. Io farò ogni cosa utile per garantire alle opposizioni tutti i loro diritti e richiamerò i loro doveri. Essendo in continuità l'indicazione del Presidente del Consiglio regionale, non è che andavano aperte discussioni particolari, molti dei colleghi mi conoscono, credo che non abbiano non votato per sospiri, ma quanto per cercare di creare fibrillazione all'interno di una maggioranza. Alla fine il Presidente Marsiglia ha comunicato un'aggiunta completa ed è eletto un Presidente del Consiglio regionale con i suoi voti di maggioranza. E' anche normale che all'inizio di un governo regionale ci possa essere qualche sottolineatura, qualche limatura e certamente la faremo per cercare di far sentire tutti i territori rappresentati e tutte le competenze specifiche esaltate. Questo è un fatto normale, avviene sempre. quello che io registro è che il Consiglio regionale evidentemente nella sua presidenza ha assunto un valore particolare, essendo stata una carica molto attenzionata.